I rischi sono elevati da diversi mesi perché sono esplosi i costi dell'energia e tutto il mondo delle imprese lavora con l'energia e il mondo agricolo in particolare perché i lavori agricoli vengono svolti con diverse forme ma sempre con l'energia. Al tempo stesso sono aumentati i prezzi di tantissimi prodotti. Qui bisogna capire se siamo di fronte a fenomeni strutturali che dureranno nel tempo o se siamo di fronte a fiammate. Nel frattempo bisogna proseguire a lavorare, a ragionare, ma ai fermarsi.